Baruffi Cars, appoggi ridenti. Secondo una ricerca condotta dalla società Alchemy Digital Enabler Italiano, basata su un campione di circa 50.000 ordini annui relativi agli shop online, concernenti beni come abbigliamento, prodotti per la cucina, prodotti per l'infanzia, arredamento, articoli di bellezza, alcolici, bevande e caffè, è il nostro capoluogo di provincia, assieme a Milano e alla provincia di Verbano, Cusio, Ossola, a guidare la corsa agli acquisti di prodotti fisici online. A scala nazionale sono Lombardia, Lazio e Veneto ad attestarsi quali regioni con maggior frequenza d'acquisto ed è proprio qui che si concentra il 40% delle transazioni commerciali raggiunte. Ad emergere durante l'indagine è inoltre il fenomeno della cosiddetta quarta settimana con una significativa concentrazione degli ordini online durante l'inizio del mese ed un calo sostanziale nell'ultima parte dei 30 giorni. Esattamente ciò che accade, in modo speculare, con gli acquisti che avvengono nella maniera tradizionale laddove sono i primi giorni del mese ad alzare la lancetta delle compere presso gli esercizi commerciali. Tratti comportamentali ed attitudini sempre più speculari fra vita reale e virtuale, dunque. Ed è per quanto concerne la cosiddetta densità, ossia il rapporto fra numero di transazioni online per numero di abitanti, che Sondrio guida la classifica prima addirittura la città di Milano. Deludente il piazzamento della capitale. Roma è solo al ventottesimo posto. E c'è da chiedersi quanto l'aumento di acquisti di beni su internet possa influire sui già non rosei andamenti delle attività commerciali del territorio da anni alle prese con una crisi dura a svanire.